Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 124esima puntata del podcast di Marcos Box. E si spera in questa puntata senza quei tum 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 fastidiosi che ogni tanto si sentivano le precedenti puntate che ancora non ho capito da dove diavolo vengono. Cioè non ho capito, buh, sarò io che dove botto al microfono? Non lo so. Beh, come state? Spero tutto bene, spero che siate riusciti a fare qualche piccola giornatina al mare giusto per staccare il cervello, per guardare il mare, mettere le gambine nell'acqua, i pedini, fare ciccaccia sulla sabbia, guardare il panorama, guardare le bellezze naturali e umane del tuo posto, vabbè, ci siamo capiti che uno che va a fare al mare per queste cose. Comunque, iniziamo questa puntata che sarà molto breve perché non ci sono stati tanti argomenti postati in queste settimane che ci hanno separato dalla precedente puntata. Prima di iniziare lasciatemi farvi notare che ho fatto alcune piccole modifiche al sito in corso di queste settimane, sto aggiornando mano a mano, sto cercando di correggere dei bug, sto segnando i bug all'autore del tema e spero di riuscire a dare una quadra al sito. Adesso sto anche provando nuove combinazioni di caratteri, anche se non mi sta piacendo questa combinazione di caratteri. Vorrei utilizzare un carattere particolare che non è presente tra quelli preimpostati, preimpostabili di blogger, devo vedere come implementarlo, devo vedere sì. Comunque, tutto quello è il font Ubuntu, ho messo un altro font, questa è la cosa che salta subito all'occhio, se vede l'occhio allenato ai caratteri, perché i caratteri sono importantissimi nella lettura dei siti. Apriamo in bellezza la puntata parlando del finalmente rilascio di Fedora 36. Fedora Project ha annunciato, ha reso disponibile da qualche, ormai da qualche giorno, visto il giorno della pubblicazione di questa puntata dell'epoca, sono passati già dieci giorni, devo essere più veloce a pubblicare. E, dicevo, ha annunciato il rilascio di Fedora 36, la nuova major release di una delle distro più appazzate del panorama GNU Linux. Fedora Workstation, che è l'edizione principale desktop, è orientata per tutti quegli utenti che desiderano una esperienza del sistema operativo Linux funzionante. E' stata criticata questa parola funzionante, perché ho tradotto quasi alla lettera il termine utilizzato nel comunicato stampo ufficiale, perché è effettivamente sì, perché Fedora, rispetto ad altre distro che bisogna assemblare, Archer, offre un'esperienza solida, funzionante, funzionante, ha già tutte le cosine a posto, la distro semplicemente funziona e funziona bene anche, anzi funziona bene a detta di molti, anche con i driver proprietari Nvidia adesso, quindi buon per gli utenti Nvidia e buon per gli utenti Fedora. Io ho trovato bug anche nel restart, l'ho provata, ma l'ho subito rimosso e sono tornato alla mia cara Ubuntu. Dicevamo, Fedora Workstation, qual è la novità di questa nuova versione di Fedora 36? E' che nell'edizione principale include GNOME 42. Molte applicazioni sono migrate alle GTK4, per migliorare lo stile e le prestazioni. Troviamo inoltre due nuove applicazioni, l'editor di test e console, che, già il nome lascia presagire che cosa fanno, l'editor di test e il nuovo editor predefinito di Fedora 36, mentre console è disponibile nel repository, ma non è l'applicazione predefinita per l'emulatore del terminale. Dicevamo, ci sono miglioramenti anche per i driver Nvidia, se utilizziamo il driver grafico proprietario Nvidia, avremo, con la sessione Wayland, la possibilità di eseguirlo, il driver grafico Nvidia, anche nella sessione Wayland, e saremo in grado di sfruttare l'accelerazione hardware. Ci sono poi, comunque, le solite aggiornamenti sotto il cofano, che non vi lascio, è inutile vi elenco, andatevi a leggere nel comunicato ufficiale, e ci sono poi i consueti, rilasci, anche delle versioni con desktop environment alternative. E vi dico una cosa che non ho postato sulle pagine di Marcosbox in questi giorni, a quanto pare, a partire dalla prossima edizione di Fedora, però, prendetela con le pinze questa notizia, dovrebbe arrivare anche una spin ufficiale con Budgie Desktop. Budgie è quel desktop environment dato in seno a Solus OS, che utilizza Gnome, quindi utilizza GTK e quant'altro, andandolo a personalizzare per avere una interfaccia utente classica, stile Windows, passatemi il termine. Fatemi sapere se voi avete provato Fedora 36, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace. Abbiamo parlato del rilascio di Fedora 36, ma come non parlare adesso del lato verde di Linux, passatemi il termine, ovvero del rilascio di OpenSUSE Grip. Perché? Perché c'è stato il rilascio della Relays Candidate di OpenSUSE Grip 15.4. Questo significa che il rilascio della versione stabile, della versione finale, è ormai alle porte. Dovrebbe arrivare il rilascio della versione stabile, della versione finale, verso fine del mese di maggio, quindi attorno al 27 maggio, se non ricordo male. Che significa la fase di Relays Candidate? Significa che, come su altre distribuzioni, come ad esempio su Ubuntu, c'è adesso il freeze dei pacchetti e si penserà soltanto ad andare a fare eventuali aggiornamenti di traduzione o completamento di attività in sospesa, come il controllo di sicurezza e quant'altro. Quindi vanno soltanto a rifinere il tutto. Se volete testare la Relays Candidate di OpenSUSE Grip 15.4, su Macrosbox trovate maggiori informazioni sul comando da utilizzare per poter fare l'aggiornamento. Passiamo adesso invece alla notizia che ha scosso gli animi di tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto, che ha fatto parlare di sé, alcuni l'hanno interpretata male, alcuni non l'hanno capita, altri invece si sono subito gettati a terra orlando, pregando il Signore, perché avevano paura che fosse arrivata la fine dei tempi. Perché? Perché che cosa è successo? È successo che NVIDIA ha finalmente annunciato, quindi ha pubblicato, i moduli del kernel e delle GPU per Linux con licenza OpenSource GPL-MIT. E lo farà a partire, o meglio, lo farà a partire dalla Relays dei driver R515. È possibile trovare il codice sorgente di questi moduli nel kernel nel repository NVIDIA OpenGPU Kernel Modules su Github. Questo rilascio rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell'esperienza e dell'utilizzo delle GPU NVIDIA su Linux e anche una più stretta integrazione con il sistema operativo e anche consentire agli sviluppatori di poter contribuire allo sviluppo aumentando ulteriormente la qualità e la sicurezza del driver. Alcuni perché, dicevo, l'hanno presa male la notizia, non l'hanno ben capito, perché subito si sono messi a dire ma la maggior parte delle cose fighe stanno all'interno del firmware. In realtà, andatevi a leggere anche l'approfondimento che ho postato sulle pagine di Marcos Box è sempre così, anche in diversi altri prodotti, diversi altri prodotti commerciali. Non è una cosa che NVIDIA ha fatto, diciamo così, con cattiveria, ma è proprio la prassi di determinare cose. Cioè, scordiamocelo che quello vi dando tutte le specifiche con licenza open source sarebbe impensabile da parte NVIDIA una cosa del genere. Comunque, per quanto riguarda i manutentori delle distribuzioni Linux il rilascio dei moduli con licenza open source consentirà di facilitare il lavoro di pacchettizzazione Canonical e SUS sono già in grado di pacchettizzare fin da subito i moduli da kernel rispettivamente su Ubuntu e su SUS Linux Enterprise. Andatevi a leggere comunque la notizia che ho postato sul blog, andatevi a leggere gli approfondimenti e soprattutto andatevi a leggere un articolo a firma di Christian Schaller spero di averlo pronunciato correttamente, intanto mi sento a suonare il telefonino perché mi arrivano notifiche dicevo, andatevi a leggere l'articolo di approfondimento che ho postato a firma di Christian Schaller di Red Hat che spiega un po' di cose, spiega perché questa notizia è molto importante fatemi sapere che cosa ne pensate, magari lasciate un commento sull'articolo su Marcosbox Dopo quasi un anno dal precedente rilascio è stato annunciato il rilascio scusate il gioco di parole, di Inkscape 1.2 la nuova major release del famoso programma di grafica vettoriale multi piattaforma open source Quali sono le novità principali? Beh, ci sono alcuni ritocchi che sono stati fatti all'interfaccia grafica nuovi effetti, ad esempio il nuovo effetto Tiling la finestra di dialogo e esportazione che sono state ridisegnate la possibilità di importare immagini SVG da OpenClippart, Wikimedia Commons da altri fonti online, modifica del gradiente nella finestra di dialogo che è stata aggiunta, sfumatura dei gradienti, editor dei font SGV aggiornato operazioni booleane per la suddivisione dei tracciati i documenti di Inkscape possono ora contenere più pagine quindi gestite da un nuovo modulo strumento ci sono tante, tantissime novità in questa nuova versione di Inkscape andatela a scaricare è stata aggiornata sulle principali piattaforme non è stata però aggiornata ancora la versione in formato Snap quindi se avete seguito la mia guida post-installazione per Ubuntu 22.04 nel quale vi consigliamo di installare Inkscape in formato Snap dovete pazientare ancora un altro po' perché stanno ancora testando la versione 1.2 stiamo ancora fermi alla versione precedente datevi una mossa a rilasciare questa versione in formato Snap facciamogli vedere che i Snap sono veloci, sono affidabili ad esempio Firefox mi si è aggiornato in questi minuti alla nuova release che è stata rilasciata qualche ora fa che introduce delle correzioni in sicurezza quindi si può fare, si può fare datevi, muovitevi, sviluppatori maledetti a voi continuiamo con le buone notizie e passiamo adesso a Firefox vi avevo parlato tantissimo tempo fa del progetto Bergamot un progetto finanziato dall'Unione Europea voluto a realizzare un traduttore automatico offline da integrare all'interno di un browser come ad esempio Firefox il progetto nel corso degli anni è proseguito si è evoluto ed è diventato Firefox Translations ve ne avevo parlato già diverso tempo fa di questa estensione vi avevo fatto vedere anche una breve anteprima in un video nel quale vi facevo vedere come funzionava questa estensione perché all'inizio funzionava soltanto sulle versioni Nightly di Firefox adesso è finalmente pronta questa estensione per i test su larga scala quindi è possibile installare sulla versione stabile corrente di Firefox quindi non è più necessario utilizzare la versione Nightly se volete provarla potete installarla trovate il link su Marcosbox funziona con alcune lingue selezionate adesso non funziona con tutte le lingue perché è importante Firefox Translations? perché ci tengo tanto a questo progetto? beh, innanzitutto perché era ora che Firefox si dotasse di un traduttore integrato che spero arrivi anche nella versione mobile più presto perché è importante? perché Firefox Translations è uno strumento di traduzione più rispettoso rispetto agli altri quelli attualmente integrati all'interno degli altri browser concorrenti perché Firefox Translations ci consente di tradurre una pagina web preservando la nostra privacy perché la traduzione viene eseguita direttamente sul nostro computer a differenza appunto delle soluzioni, come vi dicevo, integrate nei browser come Google Chrome, come Microsoft Edge, come in Vivaldi e quant'altro quindi non si appoggia al cloud, viene fatto tutto localmente nessuno può vedere effettivamente quello che voi state traducendo su quale diavolo di sito siete andati a finire ed è una cosa sempre buona e giusta meno così si sanno, meglio è andate a provare e fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto contribuite in questa fase a segnalare eventuali bug io ad esempio ne ho trovato subito uno su Windows non mi dà nessun problema l'estensione su Linux, testato su Ubuntu, che cosa succede? succede che se vado a tradurre una pagina mi si sminchia l'interfaccia utente di Firefox che mi si allarga in orizzontale non ho capito perché e praticamente non mi si vede più correttamente all'interno della porzione di schermo è anche più facile risoluzione questo bug perché ho visto che praticamente si verifica soltanto se io sto eseguendo la traduzione su, impostando con, nascondendo la barra del titolo con l'opzione per nascondere la barra del titolo mi stavo incartando quelle parole quindi se siete come me che preferite nascondere la barra del titolo avere tutta integrata adesso Firefox Translation è bugato e vi sminchia tutto se andate a disattivare questa opzione e invece, quindi, se avete la barra del titolo la scheda non si sminchia, non sminchia l'interfaccia lo segnalerò nei prossimi minuti e speriamo che lo risolvino al più presto e concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con una guida che è una, lasciatemi avvantare delle cose che mi ha reso famose all'interno del panorama del software libero Marcosbox nasce come contenitore per proporre soluzioni, guida, consigli e trucchi dal mondo del software libero 360 gradi poi mi sono specializzato nel mondo del software libero e io, sapete trovo bug in continuazione e ho trovato bug anche in Gosin Desktop che cos'è questo programma? molti di voi probabilmente non lo conosceranno ma se siete dei professionisti alla parola Gosin Desktop ci sono venuti subito dei ricordi tipo Vietnam e cose del genere è un'applicazione gratuita per Windows, Mac OS e Linux che viene rilasciata in formato DEB che serve per poter fare per poter firmare digitalmente file e verificare le marche temporali l'applicazione, come dicevo, utilizzata dai professionisti per firmare digitalmente i propri documenti e di questa applicazione li ho parlato spesso perché la versione per Linux ha spesso problemi e l'ultimo bug in ordine di tempo è quello che ho riscontrato che causa il mancato avvio dell'applicazione con un rapido crash della stessa inizialmente, siccome sono maligno ho dato la colpa a Ubuntu 22.04 GTS perché sapete è una nuova versione il programma ancora non è stato aggiornato magari hanno tolto qualche libri penso io inizialmente e non mi sono nemmeno poi soffermato tanto su questo bug ci tengo a dire che anche nei mesi scorsi l'ho utilizzata principalmente al 99% questa applicazione soltanto su Windows perché spesso mi trovo a lavorare su Windows cioè perché per via del mio lavoro mi trovo di più a lavorare su sistemi operativi Windows perché non ci sono controparti su Linux e quindi di conseguenza è inutile che vado a riavviare Linux per firmare un file visto che mi trovo già su Windows vabbè a parte questo dicevo mi sono reso conto poi che questo problema si verifica anche su altre distribuzioni e quindi ho scagionato Ubuntu ho visto che si verifica ad esempio su Manjaro Linux che è installabile grazie ad AUR su Marcosbox trovate anche il link per poterlo installare su Arch Manjaro e Ender UOS quindi tutte le distribuzioni che utilizzano AUR ed è proprio su AUR che grazie a un commento di un utente Spartacus990 che ringrazio pubblicamente di cuore che sono riuscito a trovare un anzi che lui è riuscito a trovare un workaround momentaneo che consente di aggirare il problema in attesa che venga risolto a monte dal risultatore dell'applicazione e su Marcosbox trovate la soluzione per poter far funzionare Gosin e desktop su Linux consente soltanto di lanciare l'applicazione con un'opzione su Marcosbox trovate maggiori informazioni quindi andatevi a leggere la genesi del perché succede tutto questo e condividetela se avete avuto problemi condividetela con persone che conoscete che stanno maledicendo Linux e Gosin non lo so perché uno di solito maledice tutte e due io maledico tutte e due però ci sono alcuni invece danno soltanto la colpa Linux o soltanto la colpa Gosin è un po' di tutti la colpa e se se brave persone degli sviluppatori rilasciassero l'applicazione in formato snap o in formato flat pack e aggiornassero più rapidamente sarebbe una cosa buona per tutti però ci siamo zitti non riprestiamo tanto perché già è tanto che rilasciano in formato dab l'applicazione vabbè comunque condividetela la guida se avete persone che conoscete che hanno avuto questo problema ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 124esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi ricordo di iscrivervi alle pagine social quindi la pagina facebook il mio profilo twitter il canale youtube e di seguirmi anche su su linkedin ma soprattutto di seguirmi su telegram dove sono all'attivo tre tre pagine tre canali la prima che è dedicata alle notizie da da Marcos Box dove trovate praticamente potete utilizzarlo come come feed rss per le notizie trovate poi la community telegram di Marcos Box dove si può parlare non solo di soft libro ma anche di altre cose quindi potete scambiarvi consigli trucchi e quant'altro e soprattutto un invito a tutti quelli che mi scrivono su facebook fate un salto sulla community telegram perché io su facebook spesso e volentieri mi dimentico anche di andare a leggere i messaggi sono una persona molto pigra perché facebook lo utilizzo poco quindi fate un salto sulla community telegram in modo tale anche da avere un rapido riscontro ai vostri problemi perché vi rispondo su facebook solo che ci metto tempo per rispondere quindi magari alle volte le persone dico ma qui si non rispondo uno e ci avete ragione è colpa mia che rispondo sto poco attivo su facebook quindi passate tutti quanti su telegram infine vi ricordo che è presente anche un canale telegram dedicato alle offerte di Marcos Box che potete al quale potete iscrivervi troverete dei link non sono un tipo spammone ad articoli presenti sul canale amazon sapete bene come funziona l'affiliazione voi conquistate un prodotto il prezzo per voi non cambia amazon mi riconosce una certa percentuale minuscola ma mi riconosce una certa percentuale sugli acquisti quindi potete utilizzare le proposte delle offerte amazon per supportare il blog trovate anche comunque su Marcos Box il mio codice referral che potete aggiungere ai vostri link in modo tale da supportare se il prodotto non è presente tra quelli che ho linkato e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao speriamo che non si sono sentiti nessun tic toc tac io non ho toccato per niente oggi il microfono fatemi sapere